ciao ragazzi bentornati in questo nuovo episodio della prima stagione di minecraft ita episodio che non ricordo più bene qual è ma dopo comunque lo vedete sopra la seconda mi sa che non la faccio perché la seconda ma non la faccio perché siamo in competizione per la serie quindi vediamo poi ci sarà un video speciale e scoprirete finita questa serie quindi oggi è un episodio speciale volevo fare in live ma non la facciamo per problemi tecnici nella finale questa diciamo sì semi pre finale della serie quindi andiamo subito a vedere cosa succede ok allora diciamo che ho organizzato un bel po' l'armamentario qui abbiamo tutta la scorta di carrelli che ci serviranno per andare avanti e indietro dal land perché non so quanto bastano abbiamo un po' di spade un po' di archi un po' di archi quindi direi prendiamo la carrellina sperando che non ci sia sì ma che cosa facciamo che non ho capito niente e cosa stiamo andando a fare andiamo in una miniera molto particolare cos'è il portale del land ok saliamo speriamo che non laghi troppo il secchio di acqua ce l'ho il cibo anche l'ender chest la chest e tutto pronti via io allora è da un po' che non ci entra quindi il lag è un pochino visto è un po' lentino però questo mondo c'è veramente tanta roba sotto questa qua è la farm di candela, zucchero e cactus quella lì è la farm di tetra questi sono i beacon che non indicano la strada che devono ancora comparire poi magari intanto nell'armatura completa siamo seduti perfetto qui ci sono le vacche volanti comunque praticamente perché abbiamo un Ender Chest? perché stiamo andando verso quella distinzione cioè il cartello con la portale del Ender perché praticamente come si rispetta ogni volta c'è una sfida che vogliamo contare e pensavo che fosse più veloce a capire un po' si mentre piaga va bene pensavo che se va a prima chi? comunque a tra poco dobbiamo vedere il mondo ce l'hai il cibo? si si c'ho un po' di cosciotte ah le Maria l'è lente l'è lente come vediamo quanto va veloce il scecello eh ho prima a piede vediamo dove è il carretto eh l'esce inizia la gara tra il carretto aspetta che non volo di sotto se volo di sotto fine avventura si già là dove? a casa tua si già pronto per tornare eh è valento che era un fracco di strada da fare sta a cadere montando il sole ora sembra l'onario aspetta ma dove ho messo il barretto? è proprio di lavadori a poi segnare il quarto quanti witter t'ha ammazzato? 4 5 si nemmo giù dove è? ok andava giù si parecchio anche aspettami proprio la spalla perchè lì c'è sempre gente c'è sempre gente c'è sempre gente ci so se l'è arriva il carretto no no papà io perchè mi son messo un ganna nel naso che era un mineshaft era una mineshaft qua si vabbè allora aspetta ehm che è uno scheletro beh vabbè allora che è uno scheletro che scricchiera lì quindi nella mineshaft non l'ho mai esplorata sta mineshaft quindi probabilmente che sarà per il da roba si ho messo un po' dei torsi solo lì così da caso ma vabbè comunque siccome ci gli enderman ci possono vedere noi andiamo a camuffarci e quindi vado a cambiare skin aspettate un attimo adesso è vero totalmente ok ora non ci vedono più pronti si prende si fa una rincorsa ci si butta di sotto e si entra per la prima volta io direi prepariamoci anche dei blocchi una barca barca ma fammi vedere un attimo cosa i guai ritornano al menù potremmo allontare un dorso uno di 16 blocchi ok perchè perchè sennò si attiva i superfish e ci rompono dica dove erano le frecce le frecce ce le ho già dentro si le ho messe dentro l'ender chest si si ce l'ha pieno ecco te mi fai venire i dubbi c'è un portale del nether si era quello che per passare dal nether no ok pronti 3 2 1 1 qui fate così fine siamo morti allora organizziamoci giù 1 2 aiuto 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 ma non ti colpisce se sei sotto a terra si partiamo 5 mele dorate e basta provare che mi immagno ma allora se mi immagno non fa effetto mi sembra che sono morto giù questo giù la fornace mele dorate come se non fosse un domani oh finalmente ok piccozza e si sale lì? si lì non so mia dove abbiamo scusa i blocchi di ferro con gli iron golem ne sono desmentegati porca miseria vabbè tanto adesso moriremo quindi gli iron golem verranno con noi dopo prima apriamo un portale ok ma non ho preso le frecce sono un pyrrhus e l'arco e le frecce ok e e le frecce tanto si blocchi allora la cosa brutta di questo è che si è dimenticato gli iron golem esatto quindi gli enderman non possiamo tenerli a bada almeno che non faccio una roba del genere quindi quindi devo andare dove è il drago? sopra di noi così sei incazzato mi sa eh vabbè noi facciamo così che ingazzazzo adesso si cacchierando ecco però prima ma scusa butta le più qualcosa no? qui ahia quella fa male quella fa male fuori uno no 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 guarda me sa me sa me sa incazzato ti stai intenzendo? si ma va facciamo cosita noi e facciamo cosita l'altro che ha detto va bene prima da si cacchiatto ecco noi che tu feather falling per caso si dove è il drago? andiamo a fermarla ti riempisco dai c'è pa è tanto rotto ma che che tiro ti ho fatto? lo chiamavano elton john oh ottima mira ma prima è stata un'ottima mira bene è incazzato ma quel drago appara solo così qua si sale vabbè c'è la che tiro i blocchi che tiro perchè te che stiri al drago tira ai cosi no? un po' più in su più in su vabbè c'è di quasi si fatta miseria ok vai riferò un po' più in su più su più su più su dove lo volassero ancora più in su e poi forse no fatta miseria vabbè esatto vabbè si ma quelle mere dove si trovano? eh le trovi nei dojo nei dojo il dojo il dojo il dojo sono lì si ma basta si 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 è una bella postazione si è buona ottimo rotto rotto non c'è niente a me ecco lì è incazzato eh non c'è niente eh si si è straincazzato si ma non con me con chi? con l'ender dragon? si perchè? non chiedermelo a me l'hai rotto uno hai visto? c'è da un po' anche a Kelly ora che ci da Kelly eeeh ci fa danno da solo si è schiantato no 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 si ma cavolo mi ha fatto danno con le ali allora dobbiamo salire guarda le cose che stanno giù tutte le essenziali si ma voglio potrei portare più secchi? no cavolo eh lo so dovevo portarmi più secchi no 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 ok dobbiamo recuperare quell'acqua e fare il trucchetto della scala dell'acqua quindi butto sull'acqua salgo tolgo l'acqua e rimetto sull'acqua non c'era l'acqua lì prima dove è finita l'acqua? è sparita l'acqua siamo fregati siamo fregati non lo so siamo fregati lo cerchiamo per adesso stando attenti dove lì è l'aito di drago si dove è il drago dove è il drago eccolo dobbiamo riuscire a capire eccolo lì pam perchè l'hai rimandato indietro la cosa allora dobbiamo riuscire a salire ok lascio esatto stiamo attenti no aspetta che ne ho un altro là in cima posso farlo dove l'ho visto? la ok che è senza gabbia ecco l'olipo così in meo se non li hai indietro non puoi mandarle indietro a mano? no a mano non c'è via fra mia la spada? forse ma beh facciamo così più vicino è un arco più vicino è un arco 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 si gli fanno danno sembrerebbe di si no 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 però è che io adesso non mi ricordo più dove ho il blocco di quello è incazzato con l'andar drago non capisco secondo me ha con lui si con l'andar drago dove è l'andy? Andy? questo mi ne ha lo drago mamma se lo pigliavo è un tiro del secolo si saliamo e speriamo che il feather falling ci aiuti il feather falling è maggiore il feather falling è maggiore due tre guarda vedi che ce l'hanno con lui guarda sono terminato tutti addosso che pelo che gli occhi hanno fatto e alla fine sono utili gli endro si vergogna in certo senso se cado da qua sono morto parlo parlo il ghetto della ender parlo cavoli li ho lasciati a casa perso tutto a casa tecnicamente ecco stiamo attenti all'andar drago è un'altra e si è descentrato ottimo allora come la come la io non gli ho messo io io non gli ho messo io buttate il di è la prima volta che non vengo colpito da un ender parco Eccolo là E se per me impesti tutta la cosa Come stai qua A me va mia bene Te impesti Mamma di poco Fuora dalla portata Ma che è solo che Senza acqua siamo fregati Che bello Volevi prendermi Volevi Allora saliamo su quello Distruggiamo la gabbia E da lì cerchiamo di fare dei punti Come rompi Piccolo Sali sali come fosse Tutti quanti Sali sali come se non fossero cantanti Non mi dire che non fosse All'istante Eccoci qua Che l'aveva fatta Ultimo tentativo Poi non posso più salire Perché ho finito i blocchi Sì 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 Ci sono Distrutto Distrutto tutte le torri Fatti avanti Adesso Sono da mossa capo Sì Sono anche in un'altra posizione Sì Qua in cima Scusa Se lo dargli con la spada Quando viene giù No Sì Sì Diciamo No Sì Dai che con la spada Scusa Quando è venuto giù Adesso aspetta Dovevo rascarnimento Scusa Non so Ti danno la mia No Io è mia con un'altra Eh Buonanotte Alla Scusa Mi ha struttato La mia Scusa È sempre mia Vedi Si te l'ha fatto No no Mi ha fatto la stessa Adesso lo tireremo su Adesso lo tireremo su Come se fosse Ops E' Stai di dietro Guarda Ho un po' un Enderman Sì Ecco perché Ho colpito l'Enderman Ecco perché Fa l'attacco col salto Fa l'attacco col salto Dai che sto danno Va cagliendo Sì a quanto pare Sì Dai che lo desplemo Dai che lo desplemo Si è baggato lì Sì Dai comodo Dai che lo desplemo Guarda No dai sbagliato Oh manco manca la ciappata Ci manca adesso la ciappata No Sì Prima sì Una interpelle Una interpelle Mi le vale Mi le vale Che poi non mi può inviare Non mi le vale Mi le spodio Mi le spodio Sì Sì Si andava per loro Non so se Mi le spodio Mi le spodio Mi le spodio Mi le spodio Aps sono senza Merodoro Che osteria Eeeh Dai che delle spodio E dame Dai che delle spodio Non si è benvenuto 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 All'istante Ok Ho preso un enderpearl In caso mi salvo Con un enderpearl In caso cado giù da Un bel mondo Perché Perché adesso non riacciapparle Perché La ciappa Pam E cazzo Lo chiamavano Robin Hood Oh te la ciappa Ma come si fa prendere l'alto Non lo so Non lo so Mi sa che non ti prendiamo Vai Ehi Siete dei Non funziona sempre Guarda quanto è che togli Guarda come è di spa 3 2 1 Vai Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Dovrebbe essere 12.000 punti esperienza Vediamo se c'è qualcos'altro in giro No, vediamo l'ovetto Ecco l'ovetto Perché si è spostato, scusa Perché non ti puoi romperlo Vediamo se funziona così Torcetta Nuova generazione Questo Cosa fa? Questo è il trofeo Allora, adesso rompiamo i blocchi Stando attenti a non rompere la roccia Ma non è l'end se cazzo Ci vanno nel ritorno No, vengono distrutti Ok, liberiamo tutto qua E cosa significa? Che da qua adesso ci si può iniziare a fare la farm di enderman Quindi esperienza come se non ci fossero domani Lascia il coso del void Ma ci andremo un'altra volta Esatto Adesso, prima di chiudere l'episodio Volevo trovare il buco da dove era uscito Ma fa che Per sapere almeno come fa Mi sa che è lì vicino al cittadino No Ok, questa è una registrazione che sto facendo non dopo che ho fatto il video Perché la parte finale è andata persa Allora Quindi abbiamo sconfitto il drago Come abbiamo visto Pensavo fosse più complicato Ma ha funzionato Quindi Adesso non mi è restato che fare la farm di enderman Andare a caccia dell'elytra Ed è la testa del drago L'uovo Lo metteremo dentro Il tempio che ho fatto Che nei prossimi episodi vi farò vedere Dove l'abbiamo messo Magari alla fine metto proprio una clip Se riesco Devo vedere come il video Ma comunque è abbastanza lungo Quindi ve lo metterò magari nel prossimo video Vi metto una clip extra Dove vado a posizionare l'uovo Dentro il tempio Allora Io vi saluto Vi lascio con il mio saluto elettrizzante Un saluto elettrizzante a tutti Bella ragazzi Ciao 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 Ciao